Buonasera, la quindicesima puntata di Varese Academy Pallacanestro ci porta i giganti del mini basket dell'Academy. Buonasera ad Andrea De Vita, responsabile del settore mini basket e allenatore, adesso parleremo con lui e poi abbiamo Andrea Gardini, Andrea è un allenatore del mini basket, io me lo ricordo come giocatore del Luino ma anche del Bosto forse, una guardia, adesso dove gioca? Ad Arcisate. Andrea dove gioca? Io gioco a Castronno. Andrea è un 4, gioco a Castronno da ormai sei anni alla fine e adesso poi ho iniziato anche con il mini basket anche lì da sei anni e quest'anno sono entrato responsabile del mini basket subentrando a Gianfranco Pielli. Ecco Andrea De Vita sapete che è il fratello di Gianmarco De Vita. Fratello maggiore di Gianmarco. Andrea De Vita è nato nel 95, Gianmarco De Vita aggregato ormai alla prima squadra è nato nel 1997 e hanno due nomi molto evocativi, Andrea è il nome di Andrea Meneghin e Gianmarco è il nome del post che in quell'epoca hanno fatto grande Varese, Varese che poi vinse lo scudetto della Stella quando Andrea aveva 4 anni e Gianmarco ne aveva 2 nel 99. Bene, ma parliamo appunto del mini basket, allora l'attività purtroppo in questo momento è ferma a causa del coronavirus, però allora gli allenatori si continuano ad aggiornare e stanno già pensando la prossima stagione. Poi vi chiederò un messaggio da mandare ai vostri cocchi, ai vostri ragazzini, ecco mini basket nell'academy, un mini basket da giganti. Sì, un mini basket da giganti, iniziamo dalle fasce però piccolissime, dal micro basket che sono dei piccoli del 2015 fino ad arrivare ai 2008 che sono categorie esordienti. Facciamo il micro basket, iniziano proprio a muovere i loro primi passettini in un campo da basket, iniziano a vedere e capire cos'è il campo da palacanestro e li seguono i nostri struttici che sono Tiziana Miraglia e Mario Zambelli. Ecco, fra l'altro se posso dire una cosa personale, ho visto un open day al palazzetto e era bellissimo l'entusiasmo con cui i colleghi che ha appena citato Andrea seguivano questi ragazzini. Loro sono super bravi su questa cosa, riescono a dare un entusiasmo ai ragazzi, riescono a generli bene e sono super secondo me su questa roba. Infatti loro fanno tutte le fasce, quelle basse di tutti i piccolini fino al 2012. Dopodiché nel 2011 subentrano Andrea Gardini. Ecco Andrea, allora ci parli del 2011. È un bel gruppettino, sono belli agitati, belli belli agitati, però sono attenti, hanno voglia di lavorare, hanno fame che poi alla fine è la cosa più importante a quell'età soprattutto. Voglia di giocare, fame di imparare e divertirsi. Imparare e divertirsi, però non sono solo quelli del 2011 quelli che segue Andrea Gardini. Io seguo anche gli esordenti che sono il 2008, è un gruppo che ho preso quest'anno, che seguiva gli anni scorsi Andrea insieme a un altro istruttore. È un altro bel gruppo, anche loro hanno molta fame, hanno voglia di imparare, stanno crescendo molto. Adesso sfortunatamente non riusciamo a lavorare, ma i progressi fatti negli ultimi mesi sono stati molto importanti. È un under 12 quindi di talento, insomma. Ha delle potenzialità. Ha delle potenzialità, sì, se vanno avanti a lavorare, continuano ad avere la stessa fame, sicuramente sì. E Andrea De Vita? Allena? Il 2010-2011. Il 2010-2011. Che cosa ci vuole per allenare ragazzi di questa età? In parte, già lo aveva detto Andrea Gardini, però vorrei anche... Sicuramente un sacco di passione, perché comunque andare lì in palestra, fagli venire la passione a loro della pallacanestro non è mai facile. Quindi fagli vedere che noi andiamo lì, siamo in palestra, li facciamo allenare e dopo che abbiamo finito andiamo a fare il nostro allenamento, gli fa sicuramente entrare nell'idea di giocare a pallacanestro, una cosa che gli piace. Ed è molto importante, secondo me, questa cosa. E poi ci vuole anche un sacco di preparazione, perché i bambini non sono per niente facili da gestire e da allenare. Sembra una cosa semplice da fuori, ma poi una volta che ti ritrovi all'interno è veramente difficile. Noi ci prepariamo sempre, siamo sempre pronti su tutto e cercano di fare al meglio il nostro lavoro. Andrea Gardini? No, ha ragione, anche perché i bambini non hanno filtri. E quindi bisogna stare attenti a quello che si dice, a come si dice, perché è un attimo che ti fanno notare cosa tu hai sbagliato a dire. Sai, magari allenare noi, ad esempio, noi siamo dei senior oramai, magari quando l'allenatore sbaglia a dire una cosa, eccetera, tu magari fai finta di niente, capisci cosa intende, vai e lo fai lo stesso. Invece con i bambini devi dire la cosa giusta nel modo giusto, anche perché se non capiscono e non è chiaro il messaggio, te lo fanno notare. Bellissimo, i bambini non hanno filtri. Esatto. Come è nata la passione della pallacanestro in voi, ragazzi, quando eravate piccolini? Ricordateci i vostri primi passi con la palla spicchi in mano. Da piccolini abbiamo iniziato a vedere le partite a tempi quando c'era Andrea Meneghini ancora che giocava e da lì è venuta la passione di dire voglio provarci anch'io e abbiamo iniziato a giocare la pallacanestro, io e mio fratello a sette anni, sei anni. Poi questa passione ci ha portato avanti fino a giocare in pallacanestro Varese e abbiamo fatto i primi allenamenti lì, è stato subito bellissimo, una famiglia enorme in pallacanestro Varese che ci ha portato avanti a me fino a 17, tra l'altro ho avuto la fortuna di essere allenato anche da Andrea Meneghin e a mio fratello l'ha portato fino a questo momento che è in prima squadra, è stato gregato per diversi anni e è una cosa che noi ci ha fatto innamorare della pallacanestro Varese. Ci diceva Andrea che è stato allenato da Andrea Meneghin, che allenatore è il Menego? Che tipo di allenatore è il Menego? Il Menego super, super, ha avuto una pazienza per stare dietro a noi che eravamo un gruppo un po' particolare è stato super, super bravo, super preparato, una persona fantastica secondo me. Ecco vedete, abbiamo dedicato questa puntata ai giganti del mini basket e abbiamo saputo che anche Andrea Meneghin, che salutiamo, è un gigante del mini basket è stato un gigante del mini basket, qualche consiglio, qualcosa che ti è rimasta nel cuore di Andrea come allenatore? La passione che ci metteva, che veniva in palestra, con cui ci stava lì, ci spronava a fare meglio ci ha tirato fuori un sacco di cose, super, la sua passione è super. Anche Andrea Gardini è un allenatore così come il Menego, è vero? Uguale, identico. Sì, beh per forza, se non hai passione questo lavoro non lo puoi fare, non c'è verso. Ecco, lanciamo un messaggio ai ragazzini che allenano Andrea Gardini. Ragazzi, mi raccomando, tenetevi in forma, fate qualcosa, muovetevi, che poi dopo si spera di ricominciare presto almeno siete pronti, siete carichi. Bene, Vittor, chi era Andrea Gardini, ma anche Andrea De Vita? Noi, il messaggio che devo dirvi è niente, seguiteci ovunque, pronti a rientrare e quando rientreremo faremo sicuramente degli open day, delle cose per provare anche a reclutare nuovi bimbi e a vedere con il nostro bimbi a canestro, di dare la possibilità a tutti di venire a provare una settimana al mese e tutto gratuito da parte della podcast Varese e daremo anche dei gadget. Grazie per essere stati in nostra compagnia, allora ricordiamo il settore mini basket dell'Academy abbraccio ai bambini di età compresa fra? I 5 e i 11 anni. E gli 11 anni, insomma, sono molto ben allenati, con grande passione, grande meticolosità e grande cuore dai vostri allenatori, appunto ci terrei anche a salutare gli allenatori proprio dei più piccolini. Mario Zambelli e la Tiziana Miraglia. Ecco, bravissimi, insomma, Mario Zambelli e la Tiziana Miraglia. Miraglia, sì, sì, insomma, sono bravissimi, come voi, grazie, seguiteci allora la prossima settimana, come sempre, sempre alle 21 e 15, il giovedì sera, su Rete55, canale 16 del Digitale Terrestre. Grazie a Andrea De Vita, grazie ad Andrea Gardini, grazie a tutti voi, l'appuntamento è con la prossima puntata di Varese Academy Pallacanestro. 1, 2, 3, Varese, Varese! Grazie a tutti!